Fondi europei 2,3 miliardi in 7 anni gestiti di direttamente dalla Toscana, la comunicazione del governatore al Consiglio regionale sulla programmazione comunitaria 2021-2027. Scuola, il primo bilancio sull'inizio dell'anno scolastico, la posizione dei consiglieri. Nei primi 7 anni la Toscana avrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo sociale europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia-Marittimo. È stato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni a dare comunicazione all'Aula del Consiglio nella seduta di martedì 28 settembre. Ritengo che quando si porta lo stanziamento di fondi europei di un terzo superiore a quello che era i fondi europei nel 2014-2020 e per il 2021-2027 noi abbiamo a disposizione sostanzialmente 2 miliardi e 300 milioni, più quelli agricoli 3 miliardi e 3, più ambizioso di così i consiglieri regionali, il Consiglio regionale, chi possono avere? Ma io ritengo che obiettivamente chi guarda le vicende della politica e si rende conto che il Presidente Eugenio Gianni arriva con una contrattazione fatta duramente, con costanza, per vicacia sia a Roma sia a Bruxelles e rispetto ai fondi europei 21-27 noi abbiamo a disposizione sui 4 fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. È evidente che si tratta di 4 fondi e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante, il FESRE, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. In questo caso noi abbiamo davvero nel miliardo e 2 del FESRE tutte le condizioni per poter operare come rescita, diciamo così, la voce divisa dello stanziamento, un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa e in questo caso noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti ma abbiamo rispetto a Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione. Si tratta di risorse importanti, le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana che sono quelli dell'export ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è fatto alla domanda interna che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose ad iniziare dalla popolazione anziana. Tutte queste priorità fa l'atto coincidono con le priorità che sono contenute nelle sei missioni del PNRR, quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi, quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi 30 miliardi che il Governo ha messo a disposizione. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse, quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Intanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno associati a sostegno. Io credo che è vero e giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare, perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare. L'abbiamo accolta con la speranza perché ancora siamo in fase embrionale, quindi c'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di Assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi, visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni. Quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi. I dati negativi sono il fatto che la regione toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. La Toscana ne dedico una su tutti. Si parla tanto di mobilità sostenibile. La Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana, nonostante sia la fonte maggiore di gas serra. Ed è ancora lontana, anni luce, la Toscana è la conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto alle regioni virtuose del nord. Un primo bilancio sull'anno scolastico appena iniziato, dalla gestione dei trasporti alla questione della quarantena per studenti e insegnanti. La posizione dei consiglieri regionali. Allora, diciamo che in Italia questa fase è piuttosto preoccupante perché a due settimane dalla ripresa della scuola sono molte le quarantene negli istituti scolastici. In Toscana non siamo in una condizione così preoccupante, diciamo, ecco, anche se i numeri chiaramente stanno cominciando ad attirare l'attenzione. Il tema più che altro è quello delle modalità di applicazione della quarantena che la legge prevede perché al momento ancora, nel caso di un alunno positivo, si mette in quarantena obbligata tutta la classe, spesso senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati o con una distinzione di pochi giorni, sette giorni in un caso, o dieci giorni nell'altro. Si stanno studiando correttivi a questo dispositivo. Uno dei più diciamo promossi è quello della cosiddetta quarantena aereo che prevede la messa in quarantena soltanto di coloro che, in base a una individuazione più o meno attendibile dei flussi d'aria negli ambienti, isolerebbe soltanto i contatti strettissimi. I compagni di banco e le persone più vicine all'alunno in questione nel caso fosse positivo. Rimane chiaramente un forte dubbio per quanto riguarda i tempi di pausa, perché in quel caso gli alunni si muovono, vanno nei corridoi e quindi questo complicherebbe la valutazione. E il tema degli insegnanti, perché gli insegnanti vanno in più classi spesso e quindi attualmente in caso di positività di un insegnante si mettono addirittura in quarantena anche fino a nove classi per insegnante nel caso degli insegnanti di educazione fisica. Nella diversa modalità si potrebbe forse intervenire in modo più chirurgico. Per i trasporti so, per riportato da persone, che i treni sono piuttosto affollati. Per i pullman penso che i pullman messi in più a disposizione abbiano in parte alleggerito la problematica. Per quanto riguarda i contagi, leggevamo stamani 3.900 alunni contagiati, questo vuol dire troppe classi in dad. Io credo che nelle classi dove il distanziamento c'è, non occorra mettere tutta la classe se c'è un caso positivo, bisognerebbe forse mettere i compagni vicini, non lo so, perché i ragazzini stanno con le mascherine in una classe dove dico se la distanza è quella conforme, non c'è bisogno di mettere tutti, altrimenti anche l'insegnante, anche il collegio dei docenti, perché l'insegnante va nel collegio dei docenti e quindi si va a finire tutta la scuola, bisogna trovare qualcos'altro. Di soluzioni improvvisate su questa pandemia ne abbiamo viste talmente tante che ormai non ci meravigliamo di niente. Abbiamo visto i distanziamenti passare da due metri a un metro, passare sui treni regionali, non ci vuole il Green Pass, si può stare tutti ammassati, ma sui Frecciarossa, dove i posti sono prenotati e si è già distanziati dagli altri, invece ci vuole il Green Pass. Quindi di provvedimenti di ogni genere e tipo, quindi nel discorso quarantena light, quarantena normale, il problema è un altro, il problema è che in un anno non è stato fatto assolutamente niente per la scuola, non è stato fatto niente di quello che era stato promesso per la scuola, se non provvedimenti inutili come quello di diminuire da due metri a un metro il distanziamento tra i banchi e la cattedra, come se quest'anno il Covid fosse stanco, non riuscisse più a saltare di due metri, ora salta solo di uno. Quindi credo che rientri in questi provvedimenti senza spiegazione. L'unica novità, per fortuna e questa sono felice che finalmente sia arrivata, è quella dei tamponi salivari, cioè dei test salivari, perché comunque almeno chi ha necessità di utilizzare questo strumento non deve ricorrere all'invasivo tampone oreo faringeo. Questa credo sia l'unica novità, i mezzi pubblici non viaggiano assolutamente con le capienze ridotte, basta avere un po' di onestà intellettuale e farsi un giro su un treno regionale piuttosto che sulla tramvia o su un autobus a Firenze, i mezzi sono strapieni, noi abbiamo fatto la settimana scorsa un viaggio tra Chiusi e Firenze, una mattina all'orario dei pendolari, il treno regionale non c'entravamo da quante persone c'erano, tutte estipate, molti con la mascherina abbassata sotto il naso e senza green pass, quindi di cosa stiamo parlando? Il punto di vista del Movimento 5 Stelle è stato sempre quello di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, quindi se il Comitato Tecnico Scientifico, alla luce delle percentuali di persone vaccinate, dà un certo tipo di indicazioni, noi siamo assolutamente favorevoli. Purtroppo c'è ancora il nodo del trasporto pubblico, perché noi in Toscana nascontiamo parecchio questo problema, un po' dovuto anche all'avvicendamento, a tutti i ricorsi al TAR, a tutte le vicende giudiziarie che ci hanno visto penalizzati da questo punto di vista. Si spera che a novembre finalmente ci sia il passaggio ad Autoline Toscane e si arrivi a una pacificazione, a un'implementazione del servizio, perché non ci possiamo più permettere che di queste diatribe ne facciano spese i cittadini. I territori periferici sono i più penalizzati ed è difficile anche organizzare per le famiglie i trasporti con i figli, il lavoro, insomma non si può più andare avanti così, quindi vediamo e speriamo che a novembre tutto venga finalmente normalizzato.